3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti, sono Simone di Milano Video Making. C'è Martina che mi sta aiutando con le riprese, con un A6500. Abbiamo qua una A7S-Trek. Come droni utilizzeremo i droni FPV, quindi della DJI, DJI FPV e il DJI Avatar. Come droni entropy? Come droni Obrigado! Come droni Windsor, che lo vado a farmi, è di sì, veramente. But I don't know what you do to me to the flute, oh, rude! And then the CDI, DJI FPV, o rude! And then the DJI, DJI FPV, o rude! And then the DJI, DJI FPV! And then the DJI FPV! And then the DJI, DJI FPV, o rude! buone. Però quella la senti perché va tutta in piega? E' un po' non va! Credere a base, lo rifacciamo tutti!